Oggi la sostenibilità è una parola chiave, ma cosa significa veramente? Scopriamo come la finanza etica sta ridefinendo questo concetto. La sostenibilità va oltre l'ambiente, è un equilibrio tra progresso sociale, economico e protezione ambientale. Etica SGR promuove un approccio che considera tutti questi aspetti. In un mondo che è sempre più interconnesso, la sostenibilità è la nostra bussola per navigare tra complessità e crisi globali. È fondamentale per un futuro sicuro e pacifico. Ma attenzione al greenwashing. La vera sostenibilità non è solo un'etichetta, ma è un impegno autentico verso il cambiamento. Etica SGR si impegna per una sostenibilità autentica e trasformativa. La finanza etica infatti mette al centro persone e ambienti. Si tratta di scegliere investimenti che rispettino valori ambientali, sociali e di buon governo, creando un impatto positivo reale. Come investitori abbiamo il potere di supportare un futuro sostenibile. Scegliendo investimenti responsabili possiamo contribuire a un mondo più equo e sostenibile. La sostenibilità è una scelta. Con la finanza etica possiamo fare la differenza. Scopri di più sui nostri canali di Etica SGR.